benvenuti a questo appuntamento di ricette d'autore sul canale città futura tv sempre sul digitale terrestre ricette d'autore qui al contestaccio e poi ti portano da magnaso sti atti de metallo state riprendendo tutto mi raccomando questo va tutto tagliato la futura tv no non mi vedo perché mi viene sempre fatto roberto angelini non mi rompete le scatole che voglio provare a suonare quindi la carbonara uno di voi due chi sa fare una tromba sulla bocca